ragazzi iscrizione al canale gratis e campanellina fate iscrivere vostri amici al canale di chiesonerati condividete il link nei vostri gruppi privati whatsapp telegram e quant'altro chi più ne ha più ne metta per voi può sembrare una bischerata l'iscrizione anche se è gratis ma per me è importante quindi iscrizione al canale e campanellina se vi fa piacere altrimenti non siete obbligati allora incominciamo dalla notte dalle note positive che ce ne sono tante fortunatamente l'inter ad oggi gioca dodici partite fa nove vittorie due pareggi ed una sconfitta questa è una nota ultra positiva perché comunque i numeri non sono discutibili di può interpretare i numeri ma fino a un certo punto importantissimi fondamentali tre punti di ieri l'inter è riuscita a risparmiare anche un po di energie perché scusate c'ho una camicia dietro da stirare ma è riuscita a risparmiare che energia è riuscita a risparmiare due giocatori fondamentali soprattutto per i zaghi che sono di marco ed acerbi perché ragazzi acerbi ad oggi è il miglior marcatore sull'uomo vecchio stampo che all'inter non ce n'è come acerbi devrai è un ottimo giocatore un bravissimo giocatore ma sull'uomo non ha le caratteristiche di acerbi è riuscito in zaghi finalmente a risparmiare un po' michitarian perché ragazzi lo stesso michitarian per il giro palla insieme a celanogulo è fondamentale oltre per l'intelligenza tattica per la doppia fase insomma michitarian nonostante l'età è un giocatore scontato dirlo oltre che eccezionale è un giocatore fondamentale quindi ci sono state tantissime note note positive volevo fare un appunto un'ana perché ragazzi io ve lo ripeto vedere un calciatore dell'inter venduto perché non hai una lira che piange all'aeroporto perché non voleva andare via e a sua volta vederlo criticare dai tifosi interisti a me ha fatto male perché ho visto tanti tifosi interisti godere dei suoi errori a manchester nelle ultime due partite un'ana l'ha vinta da sole le partite sia quella in campionato e quella in champions ieri sera e sono felicissimo per te andrei sono troppo contento per te perché te lo meriti come si fa a criticare un ragazzo che piange e ti dice inter un giorno ci rivedremo perché è stato messo sul mercato perché non hai un euro come si fa vorrei aprire un'altra nota positiva aslani aslani ragazzi sta migliorando anche a livello difensivo attenzione perché il ragazzo sta crescendo frattesi frattesi te lo dico dai tempi di sassuolo per me è un doppia fase che ti garantisce e soprattutto frattesi in questa squadra qua è fondamentale per una cosa perché gli inserimenti che fa lui in area ti fa sentire meno la mancanza di un centro avanti che te la riempie l'area perché l'iter non ha un centro avanti puro e ti riempie l'area o vieri che ne so e così vivieri come poteva essere miglio verde anche se miglio verde sta bene a roma questi centro avanti qua no il classico centro avanti e manca al link parliamoci sinceramente quindi ci sono state tantissime cose positive la reale società di una squadra che gioca a calcio noi ci dobbiamo andare da salisburgo è vero che questi sono ragazzi giovani che gioca a calcio gli mancavano tanti titolari ma avete visto cioè questo è un serbatoio dell'ipsia pavlovici difensore clamoroso del duemila clamoroso e poi l'altro che voleva morigno sole sole un altro difensore clamoroso cioè che giganteggia in difesa ieri loro in difesa ragazzi tanta roba due ragazzi sono ragazzi di vent'anni cioè questi sono forti lo stesso rocco simice te l'avevo detto è un bel gioco a torino anche se sul gol lui stoppa la palla ed è solo ci sono stati tanti errori quindi ora passiamo all'altra fase che non è una fase di critica è una fase di analisi la mia perché si può sempre migliorare giusto criticare analizzare scendere le due cose criticare e analizzare quando l'inter è in vantaggio spesso si fa infilare ieri cioè eravamo in vantaggio ci siamo fatti infilare in verticalizzazione in verticalizzazione cioè su calcio d'angolo abbiamo rischiato che ci facessero gol perché ce le siamo ritrovati in porta e a sanzino ragazzi delle sette scusate delle sette reti prese ad oggi l'inter ne ha prese sei a sanzino troppe troppe perché te l'ho detto con celanoglu eh per il discorso del giro palla che gestisce lui se è molto più attrazione capito offensiva se è molto più offensivo se sempre vai sempre in avanti con brozovic secondo me con brozovic potevi addormentare la partita potevi gestire ritmi secondo me questa squadra ha spesso dei caldi concentrazione quando hai vantaggio ripeto sto spaccando il capello in quattro analizzare per crescere te lo ripeto per l'ennesima volta mancano delle gestioni manca la gestione del ritmo spesso in questa in questa squadra perché anche ieri passi in vantaggio e ti fai fare gol quindi sicuramente c'era un po di stanchezza tutto quello che ti pare e poi una cosa che non mi è piaciuta è che negli ultimi dieci quindici minuti non puoi far fare assalto a fortapascia al salisburgo non gli puoi lasciare la palla la palla la devi tenere te e per quello io ti dico e a volte per come la vedo io ed è tutto opinabile io non ho la verità in tasca io sono un tifoso come voi un semplicissimo tifoso da poltrona ma spesso si sente la mancanza di brozovic questa squadra perché le partite non le addormenti più brozovic spesso ti addormentava la partita e ti gestiva i ritmi io non vedo tanta gestione ritmo perché qui comunque c'è la nogle è un grandissimo giocatore ma per l'amor di dio ma non è brozovic c'è la nogle con il giro palla veloce che ha rispetto a brozovic che ha un giro palla molto più lento da molti meno punti di riferimento al centrocampo avversario quando vengono giù a farti pressing però senza brozovic perde altre cose quindi ne hai acquisite alcune ma ne hai perse altrettante perché secondo me ci manca la gestione del ritmo e soprattutto spesso nascondere la palla agli avvezzari e farli correre a vuoto perché poi non è un discorso ma l'inter era stanca perché te a a reggere gli assalti tipo salisburgo negli ultimi dieci quindici minuti duri molta più fatica e a gestire la palla perché gestendo la palla e fai correre per gli altri li fai correre spesso a vuoto molto semplici a questa squadra quando ci sarà questo punto molto presto lo sappiamo tutti perché non lo so il cinese non lo so dov'è il cinese sarà in sala registrazioni non lo so dove va bene lo vedrete in ventisette dov'è il cinese ma come forse per dov'è il cinese io ma voi se te giù se lo sai non lo so dov'è il cinese ma questa squadra mancano due difensori di cui un braccetto bastoni comunque lo vedo molto molto in calo ma manca un difensore tipo schurz del torino che è un giocatore clamoroso di cui io ne parlo a questa estate no oltre a cerbi non c'è nessuno in grado di marcare l'uomo come ho detto prima che devrai a altre caratteristiche e poi ci mancherebbe anche un attaccato insomma ci mancherebbero tre o quattro giocatori ma comunque per quello è è stato venduto per quello è stato speso ad oggi bisogna riconoscere che i numeri sono ottimi perché i dodici partiti nove vittorie due parigi e una sconfitta bisogna lavorare su una cosa attenzione che l'inter ha preso sette gol e sei a san silo tra cui bologna sassuolo e salisburgo attenzione si prendono troppi gol per caldi tensione per stanchezza per tutto quello che ti pare però secondo me bisogna lavorare un po di più sulla concentrazione e cercare di gestire meglio la palla ci becchiamo più tardi ciao vittori iscrivetevi al canale attivate la campanellina e arriviamo 8.000 ciao l'inter